Buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento con i giornali in edicola alla nostra rassegna stampa. Scorriamo insieme i titoli di oggi, mercoledì 30 giugno 2021. Ieri è stato sottoscritto un accordo sul lavoro, meglio sulla fine del blocco dei licenziamenti con eccezione della TAC, il tessile abbigliamento calzaturiero. Ma a tenere banco sui giornali e soprattutto la pagina politica con la fine ingloriosa del rapporto tra Conte e Grillo che mette in crisi il Movimento 5 Stelle e che potrebbe avere ripercussioni anche sul governo. Andiamo subito sul Corriere della Sera che titola Grillo rompe con Conte. Non ha visione, statuto seicentesco. L'ex premier ha fatto la sua scelta. Ai rilievi dell'avvocato il garante risponde con durezza e, riesuma, Rousseau per il voto sui dirigenti. Leggiamo il riassunto. Lo strappo ieri pomeriggio. Beppe Grillo ha risposto a Giuseppe Conte. Non ha visione politica e il suo statuto è seicentesco. Poi ha aggiunto. Voteremo la nuova guida e lo faremo ancora sulla piattaforma Rousseau. L'ex premier replica immediatamente. Ha fatto la sua scelta. Chi sta con chi? E questa è l'analisi di Emanuele Buzzi. Quei due partiti dentro i 5 Stelle e il declino del movimento riassunto da Massimo Franco che parla del ritorno delle anomalie. E poi c'è anche l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia che si occupa di destra e populismo, la lezione che offre la Francia. Ha ragione Antonio Polito quando sul Corriere di ieri ha visto nel risultato della consultazione elettorale in Francia una lezione per il populismo e dunque anche per i partiti di Casanostra a cui quel termine si attaglia più o meno bene. E naturalmente soprattutto per quelli di destra non solo perché i sondaggi continuano a darli sulla cresta dell'onda ma anche perché evidentemente il dato clamoroso della sconfitta di Marine Le Pen riguarda loro più da vicino. Il primo insegnamento da trarre riguarda la collocazione internazionale. Sembra venuta l'ora che Salvini e Meloni si chiedano quale reale vantaggio, legittimo, inutile aggiungere, essi possono sperare di ottenere dal loro ormai pluriannale flirt con regimi quali quello ungherese, polacco o russo. Se intendono rappresentare la maggioranza dell'elettorato italiano, credono davvero che tale elettorato possa nutrire grandi simpatie per governi clericali fino al parossissimo come quello di Varsavia o per un autocrate prepotente come Orbán? Davvero credono che la maggioranza del loro elettorato sia disposta a mollare l'antico ormeggio atlantico per correre tra le braccia di Putin, carceriere e avvelenatore dei suoi avversari politici? Ancora, che cosa mai potremmo avere da guadagnare noi italiani, mi chiedo, dal guardare con indulgente simpatia i nazisti di Alternative für Deutschland? E sono interrogativi più che legittimi. E intanto ieri trovato l'accordo sui licenziamenti, ma soprattutto cashback abolito e battaglia politica Draghi va avanti. E poi c'è l'intervista al ministro Brunetta, un patto sociale per crescita e lavoro. A centropagina una serie di fotografie che parla del paese dei centenari, il segreto, aria e cibo. C'è un paese in Sardegna di 1741 abitanti, si trova nell'Olgiastra a 100 chilometri da Nuoro e 100 da Cagliari. Qui vivono otto centenari, quattro uomini e quattro donne. Il segreto della loro longevità lo spiegano loro stessi. Aria buona, cibo sano, con tante verdure nell'orto. Ma passiamo a Repubblica che torna e titola ovviamente sulla vicenda Grillo-Conte. Grillo butta fuori Conte, il fondatore attacca, è un incapace senza visione politica. E recupera Casaleggio. Votiamo sul Rosso il direttivo dei Cinque Stelle. I parlamentari sono in rivolta, così ci distrugge. L'ex premier ora pensa a un partito, due ministri pronti a seguirlo. Intesa intanto tra governo e sindacati, cassa integrazione prima di licenziare. Analisa Cuzzocrea scrive un post sul suo blog per rispondere a Conte che lunedì lo aveva sfidato. Grillo indice su Russo l'elezione del direttivo dei Cinque Stelle e attacca l'ex premier che a sua volta reagisce. Ha scelto di essere padre padrone. E c'è anche l'analisi per il lavoro, una strada c'è. Quella sul blocco dei licenziamenti è forse la prima vera decisione difficile del governo Draghi. Unico paese al mondo, assieme alla Corea del Nord, abbiamo mantenuto un blocco a tutti i licenziamenti economici, individuali e collettivi, per quasi un anno e mezzo. C'è anche l'analisi del personaggio, il profeta dell'umiliazione, Francesco Bay. In fondo, Giuseppe Conte è fortunato a vivere in un periodo storico più civile o forse soltanto meno sanguinario. Durante il secolo breve, i leader andavano per vie spicce con i rivali che facevano loro ombra. Della morte di Trossi sappiamo tutto, ma anche di Italo Balbo e persino dice che Vara sparirono dalla circolazione e ancora oggi ci chiediamo come. E c'è anche il punto di Stefano Folli dal Marasma emerge di Maio. E poi a centropagina vedete questa fotografia che viene dall'Etiopia. L'esercito etiope si ritira dal capoluogo della regione contesa, la festa di Macallè liberata dai ribelli tigrini. E passiamo alla stampa il quotidiano di Torino che titola Grillo affonda Conte, Movimento 5 Stelle nel caos. Come vedete i titoli si assomigliano moltissimo perché è questo l'argomento principale di giornata. Il fondatore del movimento contro l'ex premier non ha né visione politica né capacità manageriale. Con un post il comico attacca l'avvocato del popolo e torna con Casaleggio, nuova consultazione su Rousseau. Beppe Grillo si lura Conte, non può risolvere i nostri problemi, non ha né visione politica né capacità manageriale. Si prende un paio d'ora l'ex premier per rispondere al fondatore del Movimento 5 Stelle. Ha fatto la sua scelta, vuole continuare a fare il padre padrone della sua creatura. E c'è anche l'analisi Beppe e Giuseppi finale di partito. Massimiliano Panari scrive, citofonare William Shakespeare, quando si vuole provare a comprendere i tormenti, i furori e in generale cosa frulla nella mente degli uomini che si affrontano senza tregua per il potere, si deve compulsare quell'impareggiabile almanacco delle passioni e dei vizi umani rappresentato dai suoi drammi. E c'è anche un colloquio con Letta che scrive, ora a rischio l'accordo sul colle. Quando Enrico Letta entra nella biblioteca Sala Borsa di Bologna, Beppe Grillo ha appena diffuso online la sua risposta al vetriolo a Conte. Non ha visione politica, ha messo a punto uno statuto seicentesco. Il leader del PD commenta, è un grave problema, una rottura pesante che non mi aspettavo, ora è a rischio l'intesa sul colle. E poi c'è anche un'intervista che andrebbe Letta con attenzione. Venditti, bullizzato, rischiai il suicidio, c'è bisogno di amici. A proposito delle vicende che stanno interessando soprattutto i ragazzi in questo periodo dell'anno dopo un anno e mezzo di Covid. E poi vedete a centropagina questa fotografia. Vaccini in vacanza, via in Piemonte e Liguria. Basterà un soggiorno di almeno due settimane per affrontare anche qui al meglio l'emergenza Covid. E poi fatta l'intesa sui posti di lavoro, non si licenzia se c'è la cassa, sì del governo, sindacati e imprese, ora tocca al welfare. Niccolò Carratelli, Mario Draghi, inchiodato per più di sei ore al tavolo di Palazzo Chigi, costretto non a un confronto ma a una vera e propria trattativa sindacale, una riunione fiume che ha portato al patto tra governo, sindacati e imprese. Un accordo che prevede niente licenziamenti fino a quando ci sarà la cassa integrazione guadagni. Soddisfatti i leader di CGL Cislewil, un segnale importante dopo la mobilitazione. E passiamo all'avvenire il giornale dei Vescovi italiani che titola ancora sul Movimento 5 Stelle, parlando di stelle roventi. Grillo liquida Conte, non ha visione politica e chiama al voto sulla piattaforma Rousseau. L'ex Premier replica, occorre un salto di qualità possibile discesa in campo. I parlamentari alla base si dividono tra il fondatore e l'avvocato, l'ipotesi di due gruppi. E allora leggiamo anche qui il richiamo alle 17.29. È l'attacco del post, né lungo né breve, con cui Beppe Grillo toglie d'imperio a Giuseppe Conte la nomination al leader del Movimento 5 Stelle. L'orario, prima di tutto, come si fa quando si vuole segnare un momento definitivo. Il giudizio del fondatore garante del Movimento 5 Stelle, infatti, non prevede un secondo grado. Conte, sentenza Grillo, non ha visione politica né capacità manageriale, non ha esperienza di organizzazioni né capacità di innovazione. Il silluramento prevede anche il ritorno alla piattaforma Rousseau, già concordato con Casaleggio Junior per votare il comitato direttivo del Movimento. Per l'ex Premier la conferma che il salto di qualità era necessario e di una rottura ormai insanabile. Si prepara quindi a mettersi in proprio, andando in giro per l'Italia, per risalire nei sondaggi e provare a svuotare i gruppi parlamentari pentastellati. E c'è anche il commento di Eugenio Fatigante. Per il momento non è vera rivoluzione. E poi a centropagina la fotografia di Di Maio, che è a Matera, dove è in corso il G20. Multilateralismo contro Covid e fame, ma sui vaccini critiche a Cina e Russia. E ancora scontro sul cashback a accordo sui licenziamenti. Il Movimento 5 Stelle dice no alla fine dell'operazione intesa sindacati e aziende per l'uso della cassa integrazione guadagni. Il giorno dopo l'annuncio divampa lo scontro nella maggioranza sull'operazione di rimborso. I 5 Stelle per noi è una umiliazione. Madraghi tira dritto. Dubbi anche nel Partito Democratico. Misiani, la sospensione serva per migliorare la strategia. I sindacati invece trovano un'intesa contro il governo con il governo per superare il blocco dei licenziamenti e il ricorso alla cassa integrazione guadagni. E ancora al via il Green Pass europeo, quei 2,4 milioni di over 60 non vaccinati che rischiano. Leggiamo anche un passaggio dell'editoriale in prima pagina di Giuseppe Lorizio. Misericordia e chiarezza, Chiesa, due facce della stessa medaglia. La Chiesa parla chiaro e parla misericordioso. Chi se ne scandalizza e magari vede il Vescovo di Roma in contrasto con la Curia, non comprende appieno il senso di quanto sta accadendo dentro e fuori la comunità credente. Non si tratta dell'abusilata storia del poliziotto buono, il Papa, e di quello cattivo, la Curia. Ma siamo di fronte ad un unico modo di lasciarsi interpellare dalla realtà e di leggere i segni dei tempi. Papa Francesco, nell'Angelus del 27 giugno, ha ribadito la necessità di essere misericordiosi e accoglienti, piuttosto che esibire giudizi di condanna, anche perché la coscienza delle persone è inviolabile. E lo sguardo di Gesù? C'è tanta gente, ma lui va in cerca di un volto e di un cuore pieno di fede. Gesù non guarda all'insieme come noi, ma guarda alla persona. Non si arresta di fronte alle ferite e agli errori del passato, ma va oltre i peccati e i pregiudizi. Tutti noi abbiamo una storia e ognuno di noi nel suo segreto conosce bene le cose brutte della propria storia, ma Gesù le guarda per guarirle. Invece a noi piace guardare le cose brutte degli altri. Quante volte, quando noi parliamo, cadiamo nel chiacchiericcio che è sparlare degli altri, spellare gli altri. Ma guarda che orizzonte di vita è questo. Non come Gesù che sempre guarda il modo di salvarci, guarda l'oggi, la buona volontà e non la storia brutta che noi abbiamo. Gesù va oltre i peccati. Gesù va oltre i pregiudizi, non si ferma nelle apparenze, arriva al cuore Gesù. E guarisce proprio lei, che era stata scartata da tutti, un'impura. Con tenerezza la chiama figlia. Lo stile di Gesù era la vicinanza, la compassione e la tenerezza. Figlia e loda la sua fede, restituendo la fiducia in sé stessa. E poi via via il resto di questo editoriale molto interessante. Ma passiamo al solo le 24 ore il giornale di Confindustria, che ovviamente si occupa dei temi economici a partire proprio dall'accordo siglato ieri sera. Il governo, cassa, integrazione o licenziamenti. Le imprese manufatturiere che esauriscono gli ammortizzatori potranno contare su ulteriori 13 settimane di cassa fruibili fino a dicembre. Saranno gratuite e quindi chi le utilizza non può licenziare. A questa novità si aggiunge la dichiarazione congiunta diffusa ieri sera da governo, sindacati confederali, associazioni datoriali. Le parti sociali, si legge nel testo, alla luce della soluzione proposta dal governo sul superamento del blocco dei licenziamenti, si impegnano a raccomandare l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, che la legislazione vigente e il decreto legge in approvazione prevedono in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro. Le nuove misure entreranno nel decreto su fisco e lavoro, che il Consiglio dei Ministri varerà oggi pomeriggio. Non cambia nulla invece per il settore tessile abbigliamento o pelletteria, essendo comparti ancora in crisi. Vengono accordate altre 17 settimane di cassa integrazione gratuita. Non sono dovuti contributi addizionali, con stop ai licenziamenti fino al 31 ottobre. E poi, banche americane, tolto il limite Fed, parte la corsa ai superdividenti, la ripresa del credito. Superati a pieni voti gli stress test della Fed, le grandi banche americane aprono a sostanziosi pagamenti di nuovi dividendi ai soci e al rilancio di boyback di titoli. Oltre una decina di istituti avrebbero già deciso di devolvere un tesoro da almeno 2 miliardi nel prossimo trimestre, a saggio di un boom di payout annuali che potrebbero raddoppiare a 130 miliardi. Decisioni queste che potrebbero aumentare le pressioni per simili aperture in Europa, dove le banche sono in attesa di un via libera della Banca Centrale Europea sulle cedole. E ancora, United Airlines riparte 35 miliardi per i nuovi aerei. Ma passiamo ai giornali di ambito regionale, cominciando con la Gazzetta del Mezzogiorno, che si occupa di Puglia e Basilicata. Puglia e Basilicata dove è in corso il G20. E il titolo principale è proprio su questo argomento, il futuro nella carta di Matera. I grandi del mondo, inclusivo e senza fame. Di Maio, leadership italiana, ok. Governo, pesa il caso delle 5 stelle. Grillo, sillura, conte, non ha visione politica. Al G20, Apollo Lucano, scontro a distanza con Cina e Russia sui vaccini. Pechino attacca sull'export. Il nodo clima. E abbiamo poi i tre classici titoli della Gazzetta del Mezzogiorno. E la capitale dei Sassi resso chiusa ai turisti. La diplomazia su rotaia con ciliegie e biscottini. L'ambasciatrice inglese grazie a pugliesi e lucani. E poi una vicenda di cronaca che ha scosso la Puglia, preso un sedicenne minacce e abusi su due ragazze di 12 anni. Le violenze denunciate da un bimbo coraggio. Un sedicenne è stato arrestato a Brindisi con l'accusa di aver ripetutamente costretto due dodicenni a subire atti sessuali minacciandoli di picchiarli se avessero rivelato qualcosa. Ma una vittima ha spezzato il muro di omertà e raccontato tutto alla polizia. Le violenze in un vano ascensore in un parco pubblico. E ancora pesa la controversia giudiziaria Bari sulla spiaggia di pane e pomodoro. Niente bar né servizio di salvataggio. Poi il governo, lo stop al cashback, fa salire la febbre nella maggioranza. Europei di calcio finale a Wembley c'è anche il no dell'Unione Europea. Tedeschi intanto eliminati. Ma passiamo al messaggero, il giornale della Capitale che ovviamente titola sulla questione politica. Grillo rompe, ipotesi scissione. L'ultimo schiaffo a Conte non ha visione politica, il suo statuto è vecchio e riabilita la piattaforma Rousseau. L'ex premier fa il padrone. I vertici del Movimento 5 Stelle siamo allo sbando esecutivo e il Partito Democratico in fibrillazione. E poi per la pagina dedicata alla pandemia. Rifiuti e meno dosi, vaccinazione a rilento. Domani debutta il Green Pass europeo ma va usato per tutti gli eventi. A proposito del Lodo Draghi, sui licenziamenti trovato l'accordo imprese, sindacati. E poi una vicenda che riguarda la cronaca. Chiara, il coltello e i miei demoni, la confessione shock. Parla il sedicenne che ha ucciso la ragazza, il padre della vittima. Lui era un mio stagista. Leggiamo. Dopo averla uccisa ha cercato di depistare gli inquirenti ma nella notte è crollato. I demoni mi hanno ordinato di uccidere Chiara. E' una vicenda davvero incredibile che merita di essere approfondita. Intanto a centropagina questa fotografia dei tifosi inglesi in festa dopo aver eliminato la Germania. Germania KO sabato i quarti all'Olimpico di Roma. Incubo variante. Roma ferma i tifosi dall'Inghilterra. E' una vicenda che ovviamente in queste ore monterà con grande attenzione perché si teme che l'arrivo di migliaia di tifosi provenienti dall'Inghilterra dove i casi Covid sono in nettissimo aumento possa creare nuovi problemi in Italia. Soprattutto con la variante indiana. E si muove il governo, controlli, GPS e multe per i monopattini in arrivo la nuova stretta. E passiamo al mattino il giornale di Napoli e della Campania. Botte anche al detenuto in carrozzella la vicenda del carcere di Santa Maria Capo a Vetere, le crude immagini della violenza. E c'è anche un'analisi, una ferita per la nostra democrazia sempre a proposito di questa vicenda. Così come quella di Bologna, il sedicenne che ha ucciso Chiara, me lo ha ordinato il demonio. Dopo aver ucciso Chiara ha cercato di mentire, di pistare, ha detto di aver cancellato per sbaglio le chat che scambiava con l'amica, ma poi è crollato rivelando me l'ha ordinato il demonio. Ancora ovviamente il richiamo sulla vicenda dei Cinque Stelle che vanno verso la scissione. Grillo scarica Conte, non ha visione politica. Si vota un direttorio sulla piattaforma Rousseau. Movimento in frantumi, ma i big non seguono l'ex premier. Draghi teme scossoni. E ancora Confindustria Napoli attacca il governatore De Luca. Fa tutto da solo. Duro discorso del presidente Monfellotto, sconcertante se non collabora sul recovery. Nando Santonasasso riassume. Basta con lo schema di un uomo solo al comando e sarebbe sconcertante se ciò prolungasse oltre l'emergenza. Maurizio Manfellotto, leader degli industriali di Napoli, all'attacco del governatore De Luca. C'è anche il patto sul lavoro, licenziamenti intesa tra governo e sindacati. E poi una notizia che viene dall'Inghilterra. A Londra vieta i cellulari a scuola, studenti distratti, non rendono la mossa del governo che divide la Gran Bretagna, leggiamo Chiara Bruschi. Una scuola senza smartphone, e questo il progetto del segretario di Stato per l'educazione britannico, Gavin Williamson, secondo il ministro i cellulari non rappresentano solo un elemento di distrazione, poiché se usati per troppo tempo o nel modo sbagliato causano anche seri problemi alla salute mentale e al benessere degli alunni. E per questo devono essere rimossi dai luoghi di insegnamento. E chiudiamo, come sempre, con il quotidiano del Sud, l'altra voce dell'Italia, il giornale che si occupa di Calabria e del Mezzogiorno. I burattini devono diventare uomini, scrive Roberto Napoletano. L'attacco surreale a Conte e i parlamentari grillini si ribellino al disegno suicida del padre padrone. Quindi una chiara presa di posizione del giornale. Si devono rendere conto che se vogliono continuare ad avere loro e il movimento un ruolo politico nel cambiamento del paese e guadagnare sul campo la quota parte di dividendo politico della nuova ricostruzione, non possono rimanere i burattini muti che prendono ordini da grillo, ammaestrati dalla rediviva piattaforma Rousseau, come nella favola di Pinocchio, devono diventare uomini. Un appello senza appello per i grillini ne parla proprio il direttore del quotidiano, Roberto Napoletano. E chiudiamo con gli ultimi due titoli. La strada dell'energia pulita è ancora lastricata di illusioni, G20 Amatera, clima, politiche ambientali e paesi poveri al centro della discussione dei ministri degli esseri appunto nell'incontro nel vertice Appolo Lucano. E ancora licenziamenti. Si tratta ad oltranza nel Consiglio dei Ministri anche cartelle e cashback Draghi incontra i sindacati. Ed era questo l'ultimo titolo del quale ci siamo occupati nel corso di questa rassegna stampa. Rassegna stampa che torna domani, stessa ora, stessa rete. Per il momento non andate via e restate con i nostri programmi.